Buon test per il canicattì di mister Nicola Terranova che nell'amichevole di sabato pomeriggio al Saraceno di Ravanusa, stadio scelto dalla società Biancorossa per disputare le gare interne del prossimo campionato di eccellenza, ha battuto per 4-1 l'equip Sicilia. Si tratta della squadra di calciatori svincolati guidati da Fofò Ammirata che si sono confrontati con la società canicattinese nella prima uscita ufficiale dopo l'inizio della preparazione atletica. In rete sono andati De Luca, per lui una doppietta, poi Polito e Pepe Prestia. Il mister è soddisfatto. Ho visto fare tante cose buone che, considerato il poco tempo a disposizione da quando abbiamo iniziato la preparazione, mi lasciano davvero contento. È chiaro che con il lavoro non è finito, anzi dobbiamo ancora fare tanto per arrivare pronti al 26 agosto quando inizieremo la stagione con la prima gara di Coppa Italia. Adesso quindi la preparazione prosegue, come da programma, al mattino raduno, tattica e allenamenti allo stadio Carota Bordonaro. Nel pomeriggio la comitiva si trasferisce a Ravanusa dove a Saraceno si provano gli schemi, utilizzando il manto erboso che mette di più in evidenza le caratteristiche tecniche dei giocatori. Ci saranno altri amichevoli? Noi speriamo di sì, anzi ci saranno, dice ancora Terranova. Il problema è che mentre noi abbiamo iniziato la preparazione ancora non ci sono altre squadre che sono partite. La società del presidente Angelo Licata penserà anche a questo. Non sono un meditore di vittorie nemmeno del bel gioco, ha sempre detto mister Terranova, sono un ragazzo, un allenatore che ha tanta passione e che ci mette il cuore in quello che fa. È chiaro che sono orgoglioso di rappresentare questa città a livello calcistico, non voglio promettere nulla di particolarmente importante alla società se non quello della massima professionalità e del lavoro fatto bene. Ma quale sarà l'obiettivo da raggiungere? Il primo, spiega il mister, è quello di migliorare la performance dell'anno scorso. Per questo diminuire il gap con la prima e la seconda, stiamo lavorando per allestire una squadra migliore che si possa potenziare nei settori di campo dove ce n'era bisogno. Sono un allenatore da campo, innamorato del mio lavoro, sono convinto che con il lavoro assiduo si può sempre sorprendere chiunque.